Una mobilità meno impattante dal punto di vista ambientale, puntando all'efficientamento e all'integrazione del sistema con l'obiettivo di raggiungere un migliore rapporto costi-ricavi. Oggi il 45% dei pullman viaggia con meno di 10 passeggeri e una fetta importante di treni con meno di 30 persone. E questo non ce lo possiamo più permettere. L'ha detto l'assessore regionale ai trasporti, Silvano Rometi, in seconda commissione, dove ha illustrato le linee principali su cui è stato basato il nuovo piano regionale dei trasporti, che verrà invece presentato analiticamente a Palazzo Cesaroni nei primi giorni del prossimo mese di settembre. Si tratta di una revisione complessiva del trasporto in Umbria al cospetto di un contesto completamente nuovo. Il tema viene di fatto affrontato, incrociando le nuove domande di mobilità, rispetto agli oggettivi cambiamenti degli ultimi anni che hanno visto la dislocazione di diverse funzioni. Si punta ad eliminare le sovrapposizioni, a mettere in campo un'offerta di servizi più flessibile, anche attraverso l'utilizzo di mezzi più piccoli, rafforzando le frequenze delle corse dove c'è una domanda maggiore e servizi flessibili invece dove c'è bassissima utenza, pur tenendo conto, ha ribadito tra l'altro Rometti, che il trasporto è un servizio sociale che va garantito a tutti i cittadini di ogni territorio. Nel piano è prevista anche la programmazione infrastrutturale, l'alta velocità e la mobilità aerea.